Il comandante della Polizia Municipale di Roseto degli Abruzzi, Ernesto Grippo, denuncia la oramai cronica carenza di organico ridotta all'osso, composto da soli sette agenti, un vice comandante e lui stesso. Il comandante evidenzia la necessità di maggiori risorse per migliorare la situazione e garantire un servizio adeguato ai cittadini. Secondo una legge regionale il rapporto dovrebbe essere di un agente ogni mille abitanti nei comuni non turistici e uno ogni settecento nei comuni turistici. Roseto essendo un comune turistico dovrebbe dunque avere 34 unità di polizia locale. Soltanto sette agenti e due ufficiali, quindi un rapporto di un agente ogni 3.800 abitanti è comunque il peggior comune di Abruzzo per questa proporzione. Dovremmo essere 34, siamo solo sette agenti e due ufficiali ed è un numero improponibile per garantire servizi minimi e essenziali di polizia giudiziaria, di polizia edilizia e di polizia stradale. Il problema non è solamente il numero di personale ma anche la parte tecnica del comando. Carenza di risorse strumentali, una sola auto di 200.000 km, abbiamo acquistato due bici elettriche e due moto, una condizione di operatività quasi inesistente. Le radioservizio le abbiamo attivate dieci giorni fa, erano anni che non esistevano, non abbiamo cellulari di servizio. Per Grippo le responsabilità sono attribuite principalmente alle precedenti amministrazioni, mentre l'attuale giunta comunale sta facendo solo il minimo indispensabile. Certamente questa amministrazione purtroppo ha fatto soltanto il minimo sindacale per mantenerci in vita, assunzioni in numero molto esiguo. Negli anni passati le altre amministrazioni hanno consentito collocamenti in quescenza senza provvedere al reintegro del personale collocato a riposo. Garantiamo il minimo essenziale ma è un minimo veramente indecoroso e indecente e ripeto e ribadisco, mi vergogno di dover comandare un corpo che non è in grado di garantire i servizi minimi essenziali. Mi assumo tutte le mie responsabilità ma non posso andare oltre. C'è una questione che ha tenuto banco negli ultimi giorni il Roseto che è la decisione del parroco del Sacro Cuore di chiudere l'area di parcheggio e dedicarla solamente ai fedeli. Questo cosa significa? Si può o no parcheggiare? Certamente se di quest'area si tratta di un'area privata è comunque l'area che non è stata interclusa, quindi sicuramente chiunque può parcheggiare perché l'area non è stata chiusa. Noi faremo accertamenti in ordine alla titolarità dell'area, se quest'area effettivamente è chiusa e il parroco vuole che nessuno vi parcheggi occorrerà che la chiuda completamente e non consenta l'accesso. In questa fase è possibile comunque parcheggiare e nessuno può essere sanzionato.